buongiorno a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo video oggi prepariamo un altro antipasto molto semplice da realizzare la sfoglia di mozzarella ripiena con prosciutto crudo di ottima qualità tipo il prosciutto crudo di parma della rucola molto semplicemente dobbiamo acquistare la sfoglia di mozzarella già fatta la troviamo nei caseifici oppure nei supermercati più forniti mettiamo quindi un foglio di carta da forno o ancora meglio di pellicola alimentare sul nostro tavolo apriamo quindi la sfoglia di mozzarella e posizioniamo il prosciutto crudo a questo punto molto semplicemente dobbiamo andare a inserire anche la rucola e andiamo ad arrotolare e a questo punto non ci resta altro che mettere in frigorifero per un'oretta un'oretta e mezza in modo che mantenga bene la sua forma dopodiché possiamo tagliarla a rondelle e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.